Nel nome della moda, lo stile per la donna di oggi. Tandem, un'icona per scelta, per contemporaneità delle forme, per la capacità di vestire ogni donna rendendola sempre protagonista. Tandem, linee, tessuti, finiture, dettagli che fanno la differenza. Tandem, abiti da giorno, da tempo libero, da cerimonia. Per ogni momento della tua vita, il giusto stile, sempre. Tandem Boutique, a Reggio Calabria, Viale Aldomoro 8694. Tandem, secondo noi, moda.